Buongiorno e ben ritrovati all'aggiornamento Covid e altre notizie. Partiamo dall'aggiornamento Covid. Attualmente non abbiamo positivi segnalati dalla TS all'interno del nostro Paese, quindi la situazione si sta man mano avviando la normalizzazione. Speriamo che non ne avvengano più di casi, naturalmente se è possibile manteniamo lo stesso le solite precauzioni. Altra notizia per quanto riguarda i contenitori del resto. Mi viene segnalato degli operatori che molto spesso vengono svuotati i contenitori del resto che non sono pieni, sono semi vuoti. Questo vorrei ricordare ai cittadini che non è una cosa buona, nel senso che ogni svuotamento con la tariffa puntuale che abbiamo messo in atto ci sarà un pagamento, quindi meno contenitori riuscite a conferire meglio è. Quindi cercate di riempire di più il contenitore e naturalmente del resto, mi sto parlando soprattutto del resto, in modo da poter avere meno addebiti durante poi la fine anno. Naturalmente si sta accentuando un po' anche il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, vengono messi anche vicino ai cestini, portacarte eccetera. Stiamo effettuando, verranno messe anche delle fototrappole per l'abbandono dei rifiuti. Guardate che se si viene colti in fraganza con l'abbandono dei rifiuti o comunque ci sono delle sanzioni molto ma molto pesanti, quindi non abbandonatevi a questa abitudine di abbandonare i rifiuti perché comunque potreste essere sanzionati veramente pesantemente. Quindi il contenitore del resto cercate di riempirlo il più possibile e di conferirlo quando naturalmente il contenitore è pieno. Un'altra notizia riguarda il carnevale sabato, ci sarà la tradizionale sfilata dei carri allegorici, il percorso lo trovate un po' pubblicato da tutte le parti anche sul nostro sito, quindi potete anche verificare sia per quanto riguarda gli orari sia per quanto riguarda il percorso. Mi raccomando un po', naturalmente la festa ci sarà e l'allegria e tutto quanto, però mi raccomando sui danni che possono essere fatte a cose o a persone, quindi restiamo sì in festa ma nel modo più contenuto possibile. La sfilata terminerà l'oratorio, l'oratorio al centro della gioventù ci sarà anche lì tortelle, frittelle eccetera come al solito e le mascherine potranno comunque divertirsi ancora al termine della sfilata all'interno dell'oratorio del centro della gioventù. Ecco, io credo per il momento di avervi detto tutto, mi raccomando partecipate alla manifestazione e se potete, visto che naturalmente la sfilata dei carri allegorici viene allestita dalla proroco, dalla parrocchia, con il patrocino del comune, se riuscite a dare anche un piccolo contributo, anche soltanto un euro, due euro, tutto quello che riuscite a dare, abbiamo distribuito le buste in tutte le famiglie, anche se non utilizzate la stessa busta che avete altri contenitori non è un problema, ma se riuscite a dare un piccolo contributo ci aiuterà naturalmente a sopperire alle spese che vi hanno dovuto sopportare per quanto riguarda l'allestimento dei carri e naturalmente continuare in futuro a fare altre manifestazioni. Grazie per l'attenzione, arrivederci a tutti.